Ciao a tutti, anche tu da casa puoi scegliere il tuo futuro. Sono Federico e sono uno studente di infermieristica del terzo anno presso l'Università degli Studi dell'Insubria, sede di Como. I motivi che mi hanno spinto a scegliere questo Ateneo sono stati diversi. Primo fra tutti l'alto livello degli insegnamenti che ti verranno proposti. Come seconda motivazione la competenza e la professionalità dei professori con cui ti rapporterai a lezione e come terza motivazione la possibilità di unire da una parte quelle che sono le lezioni frontali a periodi di tirocinio in ospedale e in tutte quelle che sono le strutture in cui l'infermiere opera e lavora.